Il mio coniglio, questo è il maschio riproduttore, lo state vedendo? Eccolo lì, questo è il maschio riproduttore, mentre qua abbiamo una femmina e qua abbiamo un'altra. Questo è il nido, andiamo a vedere, serve per far sì che qui vadano a nascere i coniglietti, questo dopo l'accoppiamento. L'alimentazione di questi conigli è del tutto naturale, come possiamo vedere c'è una balla di fieno, questo è il fieno, mangiano fieno e delle granaglie, questo è l'alimento che vado a dare ai miei conigli, questo, granaglie, cereali, quindi in realtà è tutta l'alimentazione naturale.